E sappiate che so che molti di voi ci sono dovuti fare il mazzo per essere qua, siete venuti anche da molto lontano. Per cui siccome nell'ultimo anno, diciamo così, negli ultimi 370 giorni ho fatto soltanto tre concerti in cui vi ho costretto a spostarvi, tenetevi pronti perché l'anno prossimo vi vengo a trovare casa per casa. Non è una minaccia, è un appuntamento.